ben ritrovati con un nuovo appuntamento di 45 giri oggi parleremo delle slow food delle condotte slow food anche per chiarire un grosso equivoco chissà perché ma parlando di slow food si pensa subito alla cucina e no gastronomia a tutto ciò che è legato al mondo culinario in realtà non è così o perlomeno gran parte delle attività delle condotte slow food svariano in mondi molto più ampi e complessi e in questo che noi cercheremo su questa tematica che noi cercheremo con il fiduciario della condotta slow food giulianova valvibrata raffaele grilli che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito di essere più chiari non a caso questa trasmissione grilli noi l'abbiamo chiamata con un titolo che vuole proprio porre l'accento su questo aspetto la gola un pretesto slow food di più intanto è corretto ricordare subito che slow food è di più grazie dell'invito buongiorno a tutti e slow food è di più chiaramente ci sono delle dei termini e che possono indurre a diciamo errori di visione è nata prima come arci gola quindi chiaramente arci gola la gola poi nell'ottanta nell'ottantanove al congresso mondiale di parigi venne fuori slow food perché arci gola era intraducibile in inglese quindi chiaramente è com'è che stravergine intraducibile quindi slow food quindi food cibo e la similitudine l'accoppiamento il rapporto viene subito in mente ma slow food non è il cibo è un cibo è un aspetto della vita slow food e la biodiversità cioè ognuno di noi è più diverso dall'altro e questo è un valore che dobbiamo conservare preservare e chiaramente questo discorso è rivolto principalmente alle piante agli animali e diciamo che muoiono circa 100 varietà di piante al giorno al mondo quindi immaginate che cosa succede perché tutti vogliono una vegetazione che non abbia problemi che non abbia difetti che cresca su bene senza problematiche così via e questo si ripercuote nella vita di tutte le persone perché chiaramente alcune piante danno i frutti e in questo caso poi diventa cibo ma prima di tutto è una pianta quindi se noi pensiamo di dover trattare una pianta perché non abbia problemi produca delle mele perfette dei pomodori perfetti e chiaramente viviamo un'altra dimensione e la biodiversità è un valore che ha mosso il mondo perché chiaramente con il vento con l'impollinazione attraverso il trasporto dei dei semi dei pistilli delle varie piante si sono adattate le piante anche nel luogo dove si sono sviluppate dove crescono e la pianta è una cosa viva cioè non è un qualcosa di morto e chiaramente è come l'uomo si adatta ai vari ambienti in cui si trova e voi immaginate che se un leone lo portiamo al polo nord c'è difficoltà se un orso polaro portiamo all'equatore c'è difficoltà l'uomo è un animale che dovunque lo portiamo si adatta come la pianta poi chiaramente a seconda del tipo di pianta ma questo è una realtà che esiste tant'è vero basti pensare che l'altra sera in un incontro con primo recchioni a civita nuova marchi con i ristoratori lui ha presentato una una slide adesso vanno di moda le slide una foto in cui c'è una montagna e si parlava dell'adriatico il gran sasso che poi finiva nell'acqua perché questo è cioè di fronte al gran sasso ci sono delle fosse come se il paio eterno avesse preso la roccia e fatta la montagna ma geologicamente con il movimento della terra sono creati questi abballamenti e si è creata questa montagna e lui diceva in cima alla montagna non c'è vegetazione man mano che cominciamo a scendere c'è un tipo di vegetazione un altro tipo un altro tipo poi arriviamo nel mare e chiaramente lui faceva il discorso sul pesce azzurro che vive di zooplankton voi non incontrerete mai un pesce azzurro che dentro c'è un altro pesce cosa che capita con una mazzolina con con altri 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 e quindi si nutre solamente di plankton e zooplankton ma vive principalmente sulla quasi sulla superficie perché ha bisogno della luce la fotosintesi dalla vita alle piante dalla vita ad alcuni tipi di pesci e poi si vedeva man mano che si scendeva in profondità nel mare sotto non c'era né vegetazione né pesce quindi capite che questo rapporto di questa biodiversità che è qualcosa di straordinario cioè noi in Italia abbiamo un colpo di fortuna non lo so come si possa definire ma una serie di microclimi straordinari perché basta cambiare colline che cambia la vegetazione che cambia quello che le persone mangiano che cambiano le piante anche a poca distanza pochissima distanza basta il formaggio fatto in una parte della montagna è diverso dall'altro lato io qualche tempo fa gestivo come amministratore un albergo in montagna e nell'antipasto mettevo tre canelle di ricotta una era di Castel del Monte che era una crema un'altra era di Farindola dove si fa il peccolino di Farindola che era molto più dura come ricotta e poi un'altra era di Iperattitivo che era un'altra faccia... ma a distanza... sempre del gran zesto poi era quindi non è che parlavamo di montagne lontane e così via perché? Perché il vento, perché il sole, perché lo spartiacque che sembra una cosa che ci hanno fatto studiare giusto così per dirci qualcosa ma se uno ci pensa in questo punto piove mi sposto di un po' non piove più non è perché lì sono arrivato io ma perché lo spartiacque crea questa corrente dei venti che dà una vegetazione ma dà dei risultati straordinari basti pensare, e questo è una cosa veramente simpatica, c'è un amico che ha una carta della rosa dei venti del 1472 cioè prima della scoperta della media, prima che esistesse il motore si andava a vento, non si andava in qualche altra maniera e chiaramente bisognava conoscere gli venti e evidentemente questi venti influiscono anche nelle coltivazioni perché alcune cose fatte in un posto danno un risultato e diciamo la controprova è due prodotti, due alimenti del Mediterraneo che sono i simboli della nostra cultura, cioè l'olio e il vino, a seconda di come sono esposti al sole e quindi al vento sono diverse come produzione, pur avendo lo stesso tipo di vitigno quindi non è un caso che io scopro stamane da una breve ricerca che in Abruzzo sono nove le condotte slow food nel mondo ne sono circa 1500 ed è un dato importantissimo sul quale poi rifletteremo ma il fatto che l'Abruzzo ne vanti nove va a soffrecare quello che Grilli ci stava dicendo cioè che la biodiversità è una forza della nostra natura, una bellezza della nostra natura in Abruzzo fa parte del nostro patrimonio, cioè noi non siamo coscienti di quanto vale il nostro patrimonio a tutti i livelli cioè basti pensare che noi nel Terramano facciamo gli spaghetti alla chitarra se andiamo nella provincia di Pescara che poi è una provincia nuova perché è nata nel 27 c'è il carraturo che è una cosa simile alla chitarra ma non è una chitarra quindi basti pensare che cambiando collina, cambiando zona cambia il modo di essere poi c'è qualche volta qualcuno che fa qualcosa di strano per distinguersi ma queste sono cose così insomma cioè non sono cose importanti Lei è molto legato alle tradizioni o è una questione della condotta slow food esserlo? Ma non bisogna essere legato alle tradizioni in maniera talebana, cioè così e basta chiaramente se noi facciamo un piatto di indoc-andoc che è un piatto di recupero del maiale dove sono le cartilaggine, le orecchie, tutte queste cose chiaramente non possiamo farlo come 200 anni fa bisogna sgrassarlo un po', bisogna renderlo più digeribile perché? Perché il nostro fisico si è abituato a un mangiare diverso cioè prima c'era un consumo di calorie abbastanza elevato perché il lavoro era fatto principalmente di sforzo fisico adesso noi siamo seduti da una schivania quindi chiaramente non consumiamo più quelle calorie però rimanere legati a una tradizione che è quella del modo di preparare un piatto chiaramente diminuendo le cose e i componenti in maniera particolare cioè l'olio il più possibile va usato a crudo va fatto sfriggere il meno possibile perché i nostri nonni erano abituati a quel tipo di cucina ma il nostro fisico era anche più abituato a difendersi noi siamo diventati più deboli cioè noi, i nostri nonni non avevano problemi con il freddo noi abbiamo problemi, se non funziona il termosifone ci abbiamo qualche problema perché il nostro fisico si è un po' debilitato cioè è meno forte di quello di prima si può quasi dire che si è un po' imborghesito anche, ma basti pensare che noi dopo la scoperta degli antibiotici che ha salvato moltissime vite per l'amore di Dio ma che cosa è venuto fuori? che i ceppi dei virus diventano sempre più potenti è come se si organizzassero in difesa di questo assalto degli antibiotici quindi vedete che la natura si compensa da solo cioè c'è sempre una lotta tra un virus e le persone e chiaramente questi diventano sempre più potenti ma questo non lo dico io, è una scoperta medica quindi non sto inventando l'acqua calda ora la tradizione va vissuta in questa dimensione non nel desiderio di stare tranquillo cioè io ho alcune certezze, sto lì e non mi muovo noi dobbiamo pensare che il mondo gira a una velocità diversa da quella nostra cioè noi prima il discorso di andare da un posto all'altro era contato con i passi, cioè a piedi tant'è vero i romani mettevano le pietre migliari ma non per contare i chilometri ma per stabilire quanto tempo occorreva un esercito per andare da un posto all'altro e poi sono diventati i nostri confinetti cioè i nostri segna chilometri lungo le strade ma quelli duemila anni fa ragionavano in termini basti pensare che un acquedotto romano non perde acqua i nostri acquedotti sono dei colabrode questa è una cosa che mi ha visto proprio di recente ho visto un documentario su scala nazionale proprio sugli acquedotti romani perfettamente funzionanti a distanza di duemila anni e chiaramente questo discorso del rapporto di Slow Food con le persone noi siamo meno attratti da questa cosa perché l'alimentazione fa parte della nostra cultura mentre questi popoli nuovi, questi nuovi stati si avvicinano molto a Slow Food e gli Stati Uniti ne è una prova che a un certo punto hanno sete di conoscere quello che c'è dietro l'alimentazione perché prima sono stati abituati a mettere carburante nel motore del proprio corpo e andare avanti adesso mentre per noi è un fatto di cultura cioè noi veniamo da una tradizione che è straordinaria l'UNESCO ha definito la dieta mediterranea il patrimonio dell'umanità ma le nostre nonne non erano né dottori né biologi né nutritionisti erano delle donne di famiglia le quali attraverso l'esperienza hanno elaborato questa dieta mediterranea nel 1941 un ufficiale medico dell'esercito americano fu ferito rimase un anno e mezzo a Salerno e studiò perché queste persone vivevano meglio e vivevano di più e chiaramente ha codificato questa dieta mediterranea per un certo periodo è stata vituperata dicendo che la pasta faceva ingrassare tutte queste cose ma questo è un aspetto commerciale che molte volte la gente subisce e magari mangia cose stranissime proviamo a dire l'esatto opposto proviamoci ma questo è il discorso stavo dicendo l'altra sera in una riunione che il 70% della popolazione mondiale nei propri sogni ha una visita all'Italia ma per l'Italia è un dito con fronte al planisfero perché? perché qui c'è passata c'è stata una storia, una cultura che veramente attrae le persone ma noi non siamo fieri di questo perché? perché noi ne abbiamo tantissime di cose cioè qui si può fare un discorso molto semplice ma molto concreto è quello dell'utilità marginale se noi abbiamo 10 secchi d'acqua l'acqua per noi vale poco se ne abbiamo uno solo vale moltissimo e quindi chiaramente qui da noi capita che l'altro giorno leggevo un resoconto di un giudice che ha soldo un signore il quale aveva rubato 1400 anfere romane colto in fragrante questo è stato rimesso in libertà perché la giustificazione era siccome ce ne abbiamo tanto ma che vuoi che sia cioè questo non abbiamo la coscienza di quello che valgono queste cose che gli altri farebbero carte false per avere cioè basta andare all'estero in alcuni posti dove c'è una cosa sola ci sono 27 frecce che ti indicano come raggiungere questo posto e noi invece trascuriamo questo aspetto perché tanto siamo nati in certi posti dove vedere una bellissima chiesa facciamo l'esempio qui di Sant'Omero quando chiede a qualcuno ma la chiesa di Santa Maria perché dove sta? cioè cosa è la più antica chiesa romanica d'Abruzzo ma è un gioiellino ma è una cosa veramente straordinaria e moltissima gente di Sant'Omero non sa che esiste questa cosa Lei dice che è solo una questione di cultura? Io penso che sia una questione di cultura e qui voglio dire una cosa pesante ma la devo dire e lo dico apertamente dappertutto noi a scuola in alcune specializzazioni al liceo si studia storia dell'arte e noi vediamo che i ragazzi sono costretti a fare il disegno sul capitello dorico, sul capitello corinzio poi sbagliano una linea e il professore gli mette quattro chiaramente quello sarà un nemico dell'arte mentre a scuola bisognerebbe insegnare alle persone ad amare l'arte perché quella è una cosa di tutti cioè non è una cosa del professore o di qualcuno che conosce le cose e è geloso di queste cose lui deve far sì che gli altri amino queste cose io sono stato in viaggio di nozze in Sicilia e siamo stati un giorno ad Eraclea Minoa e ho partecipato agli scavi gratuitamente e quelli mi volevano per forza regalare un vaso che avevamo tirato fuori e ho detto io questo non lo voglio ora mi vado a comprare una copia perché mi piace e me lo riporto a casa ma riporterò una copia quella non era una cosa per me quella è una cosa di tutti è una questione di cultura dobbiamo avere questo rapporto con le cose che poi le slow food non possano non tener conto della loro territorialità è un'altra enorme verità perché io credo che negli Stati Uniti per esempio le slow food operino nel contesto del loro territorio magari con un comune denominatore ma non possono prescindere da ciò che li circonda è per questo che la slow food della quale lei è fiduciario la Val Vibrata la Giulianova Val Vibrata comunque si caratterizza particolarmente per attività legate veramente alle peculiarità di questo territorio ma io anche se poi parleremo anche di tavole rotonde in gioventù ho fatto il boy scout e noi abbiamo il difetto noi italiani di essere sempre terzomondisti perché ne parliamo in teoria facciamo le dissertazioni su questi problemi però non ci tocca perché sta nel terzo mondo quindi uno è facile essere disponibile per però poi mentre noi ci dobbiamo calare nella nostra realtà e quindi chiaramente la condotta di Giulianova Val Vibrata che cosa vuole fare? vuole incarnare alcuni valori far scoprire, far riscoprire far sentire alcune cose alle persone che vivono in questo territorio altrimenti sarebbe solamente un discorso teorico io la mia più grande soddisfazione è quando qualcuno mi dice mi hai cambiato il modo di mangiare non mi interessano altre cose significa che lui è diventato attento a quello che mette in bocca che poi ne va della sua salute cioè noi dobbiamo il più possibile prevenire certe situazioni non possiamo solamente tamponare con la medicina quali sono i più grandi errori che noi commettiamo? ma noi purtroppo viviamo in un momento in cui la pubblicità è tutto e chiaramente quando uno vede che è possibile non perdere tempo a lavare l'insalata a condirla perché c'è una ditta non facciamo nomi che ti dà l'insalata già pulita addirittura con dentro un contenitore che quando tu lo agiti questo si rompe e diventa condita ora noi dobbiamo sapere che l'insalata una volta rotto l'osso non è più insalata è paglia ora è vero che le nostre pecore pagliarole che abitavano che stavano in montagna e non facevano la transumanza durante l'inverno quando c'era neve mangiavano la paglia perciò siamo pagliaroli ma la paglia ti lascia dove stai insomma non ti dà alcun beneficio però l'idea è che noi mangiamo qualcosa e impiamo lo stomaco poi digeribilissimo e così via ma non abbiamo fatto niente la stessa cosa le verdure cioè non ci siamo nutriti non ci siamo nutriti non abbiamo fatto niente siamo come prima ma abbiamo solamente spesso dei soldi magari abbiamo l'illusione che abbiamo mangiato qualcosa quindi lo stomaco sta soddisfatto in quel momento ma non abbiamo fatto niente siamo come prima abbiamo solo sprecato risorse e chiaramente anche la verdura ha lo stesso discorso cioè uno deve dedicar è come se noi dedichiamo mezz'ora un'ora al giorno per andare in palestra perché a un certo punto vogliamo stare attenti al nostro corpo giustificabilissimo per l'amore di Dio ma chiaramente non deve essere che lì dedica un mezz'ora per la nostra alimentazione diventa un fatto secondario cioè basta prendere quattro salti in padello altre storie di questo genere poi mettere in forno al microonde che è una cosa che non va usata assolutamente in nessun posto né in casa né al ristorante perché toglie umidità al cibo noi siamo fatti per il 75% di acqua quindi l'umidità è una nostra peculiarità e noi vogliamo togliere al cibo la cosa più importante però i tempi che magari dedichiamo ad altre cose io dico mentre uno perché adesso va di moda guarda una telenovela ma nulla vede che uno possa preparare un piatto possa preparare qualcosa la telenovela se la vede lo stesso ma nello stesso tempo fa un bene alla sua salute insomma niente piuttosto che ho visto in giro adesso c'è una pubblicità di Mamma Beretta dove è possibile prendere una specie di cartonato con dentro pasta già cotta già condita e così via qui siamo proprio al massimo della cosa e noi che cosa abbiamo fatto per esempio è otto anni che facciamo i corsi di potature degli olivi perché ognuno di noi per un verso per un'altra ha delle piante di olivo perché non cerchiamo di migliorare questa produzione che poi se uno lo vende va a beneficio di chi l'acquista ma se lo consuma in casa va a beneficio suo e chiaramente noi quando con la macchina andiamo a distributare i carburanti mettiamo il carburante e dici che mi dà una controllata all'olio ma ci mancherebbe un po' allora mettiamoci un litro di quello buono 20 euro poi andiamo al supermercato e spendiamo 3 euro e 50 2 euro e 99 per un litro d'olio che non può essere chiaramente per il nostro motore che 10 mila volte è più importante quello dell'automobile questi rapporti dobbiamo ripristinarli non è che dobbiamo per forza inventarci ma i rapporti vanno ripristinati della nostra realtà con gli altri e in una riunione a a Pollenzo che è l'università enogastronomica di recente questa sì sono sei anni che è nata e a un certo punto c'era Enzo Bianchi che è il priori della comunità di Bose e lui ha fatto un intervento del rapporto tra il cibo e la mamma cioè la mamma comincia appena il bambino nasce lui non ci vede il bambino ma sente l'odore della madre e quindi si avvicina al seno della madre per acquisire il latte che è una cosa importantissima cioè il latte materno ha una serie di sostanze che siano per tutta la vita e magari qualche donna per non rovinarsi il seno a un certo punto usa un allattamento artificiale è uno dei peccati meglio non farli figli mica è obbligatorio mettere al mondo delle persone e lui diceva che questo rapporto che poi quando una persona sia esso la mamma che il padre cioè il discorso qui non è che solamente le donne sono deputate a cucinare ma anche il padre può cucinare ci si organizza in famiglia ma il modo di preparare il cibo significa un'espressione di amore nei confronti dei figli o del marito o della moglie e questo rapporto va recuperato se noi viviamo solamente in spazi stabiliti dagli altri mentre dobbiamo recuperare una realtà umana tra di noi eppure tutti condividono secondo me quello che lei ci sta dicendo e sa perché perché quando si ha a che fare in un nucleo familiare con la presenza magari di una donna non più giovanissima la classica nonna che vive in famiglia e che è ancorata a determinati criteri no? la verdura fresca l'insalata fresca l'olio crudo preferibilmente non commerciale tutto questo viene apprezzato non è che non venga apprezzato quindi quel che rimane difficile capire è poi perché nella quotidianità e nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo si esce fuori da questi binari è solo una questione di tempi moderni che impongono determinati ritmi oppure si va verso una disgregazione dei valori in questo caso crinari ma noi facciamo io abito vicino a un campo sportivo dove sono parecchi ragazzini che vanno a fare sport dei vari tipi e così via e vedo che a un certo punto questi ragazzi vengono a accompagnare i genitori in giustizia per l'amore di Dio ma poi bisogna aspettare un'ora piuttosto che stare a chiacchierare del più o del meno o dell'ultima storia di di Balotelli o della Fico o di qualcun altro uno potrebbe anche fare qualcosina che serva poi per la cena della sera io l'altra sera abbiamo fatto un'esperienza in un ristorante del comune di Santomero la pizza con il lievito madre e abbiamo fatto due tipi di farine la zero e la tre perché adesso le pizzerie che cosa fanno comprano farine già pronte con acceleranti per non perdere tempo il lievito madre significa farlo rinvenire tutto un processo di però poi la gente c'era un signore che ha sposato una russa che abitano in Italia hanno un bar di albatria e gli metto io non mangiavo più la pizza perché la notte mi si gonfiava la pancia era una cosa io ho mangiato sei pizza non ho sentito niente sto benissimo questo per la lievitazione naturale per la lievitazione naturale perché adesso uno si può anche scandalizzare ma il lievito madre che cos'è in pratica gli enzimi mangiano e defecano è come se predigerissero la sostanza con cui viene fatto il pane o la pizza e chiaramente questo qui non è qui la tradizione aiuta a essere veramente diciamo è veramente opportuna perché la gente stia meglio cioè quando noi siamo abituati adesso ad andare al forno a comprare il pane che sia croccante e quindi mangiamo questo pane il giorno la sera diventa un corpo con d'un dentro la moglie e il marito perché quello è un pane fatto con lievito di birra con acceleranti e chiaramente quando gli enzimi all'interno del pane muoiono il pane si indurisce non c'è soluzione di cosa quindi chiaramente le nostre nonne facevano il pane ma non lo mangiavano il giorno stesso perché il primo secondo giorno il pane deve asciugarsi e maturare mentre noi voi pensate che le rosette famose famoso pane romano venivano fatte in 36 ore adesso riesco a fare le rosette in un'ora quindi immaginate le 35 ore che vengono bruciate chiaramente ci vuole qualcosa per accelerare noi tentiamo di accelerare tutto l'unica cosa che per il momento resiste è quello dei nove mesi per un bambino qualche volta esce di sette mesi ma insomma è una cosa naturale anche in quel caso qui siamo ancora però se no acceleriamo tutto vogliamo arrivare prima poi che cosa concludiamo quando siamo arrivati prima quindi il lavoro nella quotidianità delle condotte di Slufud è infinito nel senso che bisogna continuare a predicare bene nella speranza che i risultati tornino probabilmente a fare anche un breve piccolo passo indietro e a non dimenticare determinate situazioni grosso modo è questo il discorso certo noi per esempio adesso nell'ambito del festival del baccalà ogni cena ogni pranzo è preceduto una ricostezione di oli perché vogliamo che la gente conosca perché chiaramente se uno assaggia un olio solamente a meno che si è esperto se no va bene va tutto bene mentre quando comincia a confrontare ma questo allora adesso si vede subito che la gente dice no questo è il 2 che non va bene quindi significa che la gente comincia c'ha questa possibilità ma dobbiamo dare gli strumenti perché loro possano rendersi conto di quello che consumano non sarete molto amici delle grandi aziende che commercializzano oli nei supermercati e in quant'altro presumo ma noi ci diamo la zappa sui piedi mi spiego bene io sono stato qualche tempo fa in in campagna stavamo andando ad Amalfi Amalfi è qualcosa è un gioiello e ci siamo fermati a Maiori perché era tardi a mangiare un piatto di pasta e in questo ristorante c'erano 150 persone gli unici italiani eravamo io e quest'amico mio ci hanno portato una bruschetta con l'olio di semi e ti ho detto scusi ma eh ma l'olio d'olivo costa ti ho detto scusa ma se tu metti l'olio di oliva sul pane su questa bruschetta il 90% di questi turisti perché erano tutti turisti sicuramente ti comano una bottiglia d'olio perché questa è la nostra cultura il nostro essere mediterraneo è l'olio e il vino ma l'olio di oliva di oliva quando uno dice olio potrebbe anche non dire di oliva perché olio significa olio di oliva a un certo punto fa parte della nostra storia e quelli che avevano la cultura del burro tutte quelle altre culture adesso man mano si stanno convertendo all'olio ma non perché noi abbiamo fatto una battaglia islamica dove tutti bisogna perché l'hanno assaggiato cioè quando uno straniero viene in Italia il primo giorno magari sta un po' sul chi va là ma dopo si immerge in questa cultura gastronomica che a un certo punto non se la scorda più e chiaramente quando lui tornerà nel suo paese di origine racconterà agli altri e negli altri nascerà il sogno di voler venire in Italia e questa è una cosa importantissima è un nostro patrimonio che a un certo punto ci dà la possibilità di sopperire a tutte quelle difficoltà di occupazione che viene fuori dal fatto che altri popoli altri stati fanno le camicie a 0,50 noi in Italia non ci compriamo neanche il filo non la mano dopo il filo quindi inutile insistere o facciamo abbigliamento di altissimo livello e lì siamo maestri quindi non temiamo concorrenti ma non possiamo fare la concorrenza su queste cose quindi noi abbiamo una miniera di patrimonio artistico che è straordinaria abbinata al cibo e all'ospitalità cioè stare in un paese vicino al mare tipo Giulianova alba triatica ma per non parlare di capri di altre cose che sono veramente cose cioè già quello è bellissimo poi capri diventa una cosa stratosferica è un'altra cosa questo dobbiamo convincere e ognuno di queste persone che vengono rimangono instasiati da questi posti dove può darsi che noi siamo stati fortunati perché Paglieterno ha combinato queste cose ma è un valore che a un certo punto gli altri ci riconoscono in assoluto cioè non ci sta discussione non è che dici ma ora vediamo lì stiamo pari non c'è paragone quindi a un certo punto però la Francia non c'ha quello che abbiamo noi però loro si sanno vendere e a un certo punto il turismo in Francia è superiore a quello di quello per non parlare dei vini perché anche sui vini potremmo dirne chissà quanto sui vini noi a un certo punto nelle degustazioni cieche non facciamo mai brutta figura al 90% vinciamo noi chiaramente chiaramente se invece facciamo degustazioni a livello mondiale il Cile vince vince perché perché lì va un tecnico europeo e gli operai sono cileni quindi non hanno mai fatto vino e obbediscono perché in Italia e in Francia c'è sempre qualcuno che ha uno zio un nonno che faceva il vino e dice sì il tecnico dice così ma so io come si fa che ne sa quello là chiaramente però se nel mondo uno vorrà bere un vino del territorio dovrà bere un vino italiano perché i nostri vitigni basta cambiare colline che cambia il Falerio nelle Marche il Monte Pulciano qui la Coccciola il Pecorino cose straordinarie e quindi a un certo punto bisogna solo valorizzare senta Grilli in un paio di minuti iniziative tipo quella della Prologo di Sant'Omero che sta sviluppando un processo per fra virgolette istituzionalizzare il baccalà piatto tipico della zona quanto aiuta nella cultura media della gente delle persone a far sì che si apprezzino determinati piatti ma diciamo che dall'anno scorso quest'anno nella seconda edizione si vede già una differenza c'è un aumento di partecipazione la gente si rammarica di non poter venire sabato avremo delle persone di Ancona cioè noi Ancona ce lo stocca fissa l'Anconetano quindi significa che richiama certe cose ma dobbiamo essere seri con noi stessi cioè non ci dobbiamo accontentare delle dobbiamo far sì che diventi un'esperienza sul cibo anche perché diciamo questo che il consumo di pesce è aumentato notevolmente e noi in Italia adesso il 70% del pesce che consumiamo viene dal sud-est asiatico noi dobbiamo recuperare delle realtà nostre e quindi chiaramente il baccalà nel momento in cui rinviene diventa un pesce fresco e può essere un sostituto di alcuni pesci tipo pangasi o altre cose io l'altro giorno parlavo con un negozio di pesce col quale avevamo avuto un battibecco perché in una trasmissione televisiva di una di cucina c'era un giornalista che aveva detto qui in questo piatto ci manca un ingrediente chi indovina l'ingrediente vince questo sacchetto di cozze di 5 kg e io scusate ma le cozze adesso non è il tempo su perché le cozze sono maggio giugno luglio agosto e settembre ottobre poi basta no? e che ha telefonato questo distributore che era lui il distributore ma come ti permetti quelli sono buoni sono buoni ma sono racchiti che non è il tempo su e quindi chiaramente questa situazione che cosa comporta che noi molte volte stavo parlando di questo qui mi ha detto è venuto uno mi ha detto c'hai il pangase no me ne vado allora come se a un certo punto fosse andato lì a dire c'hai il melluzzo fresco per mio figlio cose da da galera assoluta cioè noi che dobbiamo mangiare il pangase quando abbiamo dei pesci straordinari del nostro mare perché da Termole ad Ancona cioè il pesce è più saporito naturalmente di taglio noi lo possiamo solo rovinare però chiaramente c'è anche il pesce con le spine cioè le triglie di fango ci stanno le spine ma una volta fatti il lavoretto è qualcosa di straordinario non ha bisogno neanche dell'olio per il grasso che contengono in maniera autonoma lei è stato vicino a Libero Masi che istituzionalmente noi insomma giornalisti non più giovanissimi abbiamo conosciuto e apprezzato non tanto per le sue grandi qualità di libero professionista qual era ma per essere lui il fiduciario della Slow Food quanto ha preso da lui che ricordo ha di Libero Masi e cosa si sente di dire in un momento nel quale stiamo un po' esaltando le condotte Slow Food e credo che lei condivida con me il fatto che Libero Masi per voi per noi è stata un po' la Slow Food io l'ho conosciuto nell'88 avevamo tutti e due quarant'anni siamo dalla stessa classe e venivamo da due esperienze diverse io ho fatto il boy scout lui aveva fatto la sinistra extra parlamentare e così via però nei fini eravamo sulla stessa lunghezza d'onda perché il desiderio era quello di migliorare la realtà dell'uomo e chiaramente lui lo faceva anche professionalmente ma Slow Food per lui era diventato un motivo di orgoglio e insieme a lui abbiamo organizzato al Salone del Gusto la grande panarda abruzzese un pranzo di 125 portate ma non era una buffata insomma era una serie di esperienze sul cibo partendo dal mare per finire alle montagne ma che ha dato all'Abruzzo una visibilità come se avessimo speso 10 milioni di pubblicità perché queste cose sono quelle che lasciano il segno e io con lui ho fatto le esperienze straordinarie era una persona di un'attenzione di una ricercatezza di una maniacalità sulle cose immagina che in un ristorante di Gorropoli siamo stati sette sere di seguito per fare i tagliolini con la pancetta e con un po' di acqua di cottura fino a quando noi siamo arrivati a quello che volevamo ma lui il cuochetto ma che era così semplice me lo potevate dire ma cioè chiaramente per avere per raggiungere una valenza a perfezione perché fare un piatto di pomodoro e basilico è più difficile che fare un piatto di boscaiolo perché a boscaiolo più roba ci mette è meglio invece lì pomodoro e basilico e quello e non c'è altro quindi bisogna solamente entra in gioco tanti elementi cioè la cottura della pasta del pomodoro immagina che quando abbiamo fatto al salone del gusto questa cosa la De Cecco doveva sperimentare una pasta all'uovo ci ha fatto sette tipi di spaghetti alla chitarra all'uovo più larghi più stretti e più alti per stabilire qual era l'ideale perché andava accompagnato con un vino che era Romane Conti Latasche che avevamo comprato in Svizzera è un vino francese e avevamo pagato mille franchi svizzi cioè un milione e trecento mila lire per la cena memorabile che ha suscitato grandissimo interesse perché era qualcosa di veramente straordinario era geniale in questo era geniale era geniale lo ricordo così anche io quello di sforzare sempre il gioco per raggiungere perché se uno tende a 100 esce a 80 se uno tende a 50 esce a 20 insomma diventa una cosa è stato od è ancora difficile per Raffaele Grilli ricalcarne un po' le orme ho ancora dovrei ancora lavorare 50 anni per arrivare a suo livello quindi non ci arriverà Grilli penso di no penso di no perché era la sua storia lui mi raccontava le esperienze che aveva fatto e a un certo punto quando scoprivamo qualche ristoratrice qualche ristorante che faceva le cose con la curiosità cioè in cucina ci vuole curiosità se uno pensa di essere arrivato curiosità o fantasia? la fantasia viene dopo la curiosità perché se io non ho la curiosità di cercare di scoprire di vedere le cose non riesco a essere fantasioso molte volte adesso uno pensa che se ci metto 10 erbe è il top no ci vuole l'erba giusta il momento giusto e così via poi quello della stagionalità è un discorso importante e chiaramente c'era un figlio di un ristoratore col quale siamo andati a Milano insieme all'Avvocato Masi e siccome l'Avvocato Masi quando andavamo in questo ristorante dove veramente la madre era veramente brava a cucinare diceva io quando vengo qua provo delle emozioni ora ci siamo fermati in autogrill sull'autostrada e c'erano quei pezzi di cioccolato quadrato della Perugina e scritte emozioni questo ragazzo ecco le emozioni ci sarebbero forse anche tante altre cose chiaramente è difficile di cambiare questa persona difficile sì sì ma lo è anche per altre cose purtroppo legate al fatto che c'è rimasto questo punto interrogativo che è scandaloso ma non vorrei parlare di questo vorrei invece andare al convegno all'incontro al seminario che avrete a Santomero nella giornata di sabato sabato pomeriggio relativo proprio al terreno agricolo che farne alle sue spalle abbiamo visto spesso una locandina che racchiude i temi di questo incontro che si incastona credo molto bene con la chiacchierata che abbiamo fatta e con le vostre politiche le politiche della slufuta abbiamo ancora qualche minuto ma l'idea è quella che noi in Italia non possiamo risolvere i nostri problemi solo con la legge perché per nostra natura siamo portati a ragionare in termini un po' diversi cioè ognuno cerca di accomodarsela per proprio conto ora il terreno agricolo per una serie di motivi ha subito delle devastazioni tornando all'avvocato Masi lui diceva queste bellissime case coloniche sono veramente straordinarie e noi a fianco ci abbiamo fatto una cosa in gemente armato mentre la casa colonica era esposta a sud al sole tutta una congezione della vita delle persone chiaramente veniamo da una storia in cui la gente che abitava in campagna era gente di serie B mentre adesso si torna in campagna si fa la villa in campagna e poi si pretende che il comune faccia tutte le fognature tutto quello che deve fare e poi quando nevica pretendiamo che il comune mandi lo spazzaneve perché mi deve liberare la strada ma se io ho fatto la casa in campagna ne devo anche pregi e difetti avere le conseguenze di quello o la libertà la tranquillità il silenzio poi chiaramente qualcosa devo anche poi spalerò la strada se voglio uscire ora poi siamo entrati in questo discorso delle energie rinnovabili che ha dato ha fatto diventare gli agricoltori dei finanzieri non quelli della guardia di finanza ma di persone che fanno finanza cioè siamo veniamo da una situazione che è la PAC cioè la politica agricola comunitaria che dà un contributo agli agricoltori se mettono se coltivano un grano duro o altre cose di questo genere senza preoccuparsi del risultato è un contributo a Ettaro e chiaramente questo che cosa comporta che uno coltiva ma non ha interesse a fare un prodotto di qualità l'importante è che lui recupera qualcosa dalla coltivazione poi piglia questo contributo poi è venuto fuori se io il mio terreno lo do per mettere dei pannelli solari ho un reddito senza fare niente e quindi chiaramente questi mica sono cretini cioè nessuno può condannarli perché l'altro gioca in borsa lui la borsa non la conosce non ha interesse e si accontenta di questa piccola cosa e abbiamo ridotto le nostre colline a situazioni veramente inenarrabili cioè la varietà delle nostre colline in particolare quelle dell'Abruzzo sono paragonabili alle colline toscane in Italia sono forse le due di altissimo valore e questo ha comportato che ognuno pensa ad avere un reddito senza lavorare perché questa è l'aspirazione di tutti noi ma chiaramente o uno fa un 6 a supernalotto se no esistono l'unica strada è quella di lavorare e poi magari qui non tanto in Abruzzo ma queste paleoliche che hanno creato le situazioni le talee da bruciare tutta una serie di cose noi tentiamo di far sì che ognuno decida per sé ma nel senso che bisogna gestire il territorio per il nostro bene per il rispetto delle nostre persone perché chiaramente noi la scienza la tecnologia andrà sempre avanti ma noi saremo sempre costretti a mangiare qualcosa che viene dalla terra allora non ha senso che io non lavoro guadagno 5 mila euro all'anno 6 mila euro all'anno poi però vado a combattere i pomodori cinesi che partono verdi man mano che camminano diventano rossi mangio delle zucchine tutto l'anno mangio delle cose che non si sa da dove vengono però sto ho guadagnato 5 mila ma io perdo in salute e secondo me la salute è più importante è vero che bisogna avere qualche disponibilità per sopravvivere ma chiaramente se uno sta male può avere anche i miliardi sta sempre male il discorso non si risolve né tanto si può pensare come quelli che io stasera faccio una cena abbondantissima e poi prendo la pasticca per stare bene cioè questa è un'assurdità noi dobbiamo gestire il nostro copro in una maniera per poi stare bene senza dover prendere la pasticca perché altrimenti viviamo se no una situazione di dicotomia dove noi diciamo è come se facessimo l'ologramma della nostra persona vogliamo ricordare che il seminario si terrà presso la sala marchesale di Santomero e analizzeremo con l'intervento di alcune persone dedicate tipo i responsabili regionali di Italia Nostra il presidente regionale di Slow Food Raffaele Cavallo ci sarà l'intervento di un nutrizionista il dottor Paolo De Cristoforo perché chiaramente mangiare a chilometro zero è un'altra cosa ci sarà la dottoressa di Felice di Teramo del museo archeologico perché chiaramente prima l'uomo era un cacciatore poi è diventato coltivatore quindi questa cosa va vista nella sua interezza nella sua storia quindi voi porrete in questo seminario un grande interrogativo una cosa che volevo dire stiamo perdendo anche bisogna fare l'interrogativa bisogna anche offrire soluzioni ecco appunto e a un certo punto ci avremo il professor Valentino Ferrari dell'istituto di ricerche delle graminacee di Monzampolo che ha elaborato un progetto come si possa coltivare un ettaro di terreno diviso in quattro cioè in quattro pezzi da due da duemila metri ciascuno per la coltivazione di pomodori porri asparagi e carciofi il lavoro impiega dieci mesi all'anno queste colture non si accavalano quindi è possibile gestirle in maniera tranquilla senza il ricatto del grossista che vede il mio campo di insalata e dice zero dieci perché domani quello va in cima e poi te lo mangi insomma quindi la possibilità di vendere gradatamente i prodotti per una rendita superiore ad una serie di pannelli solari per una rendita di uno stipendio mensile di 1500 cioè chi ci lavora ricava più fine anno 18 mila euro oltre a quello questo esperimento che salvaguarda la salute che salvaguarda l'ambiente che va in contrapposizione con un trend che oggi sta rovinando anche l'agricoltura questa è la sintesi grazie Grilli credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata abbiamo ricordato chi andava ricordato parlando di Slow Food vi seguiremo continueremo anche per le nostre risorse e disponibilità tecniche e professionali a seguire il festival del baccalà di Sant'Omero con un doppio appuntamento peraltro in questo fine settimana grazie per aver accettato il nostro invito con 45 giri tornando a parlare di politica ci riproporremo ovviamente domani grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti